Eccoci con Fragasso, buonasera al Bomber, 3-3 il punteggio finale, ti chiedo subito un commento a caldo. Commento a caldo? È una bellissima partita, molto corretta, al di là di quello che si è visto, qualche chiacchiera di troppo, ma è una partita maschia corretta. Complimenti agli avversari, siamo stati sempre 2-0 per noi, ci hanno pareggiato, insomma il punteggio secondo me è giusto, secondo me poteva finire tranquillamente in parità numerica, senza problemi. Però per noi finire 9 contro 10 è una mezza vittoria per come si era messa, quindi faccio i complimenti agli avversari, è stata una bellissima partita e secondo me il 3-3 è un risultato giusto. Allora torna a casa Loreno Gli Santi con un punto in tasca, un punto guadagnato o due persi? Secondo me per come si è messa un punto guadagnato, primo tempo di aver detto il contrario. Grazie allora per il tuo tempo e complimenti, buona serata.